E' un po' di piadina e il salto Cosa ti prepara? Piadina è un po' di pezzi una misura di fredda un uomo un po' di olio un po' di olio un po' di olio e il olio Questo è tutto? Sì, questo è tutto. Wow. Where do you have this in Italia? In restaurant o on the street? No, there is take-away store. It's take-away stores, yeah? Yes, there is a lot. It's Italian street food? Yeah, but in the north-east Emilia-Romagna, Bologna, Rina. All right, okay, okay. Yes, it's very traditional. Hello guys, if you want to try Italian Piadina. Come is it? Come is it? Come is it? Come is it? Yes, but you are not a little boy. Yes, we were in two. But now it's from a week, two or three weeks that we are going to. because we are opening another market of pesto. Ah, yes. And then the pesto, we do the pesto and now we do the pesto and tomorrow we do the pesto and tomorrow we do the pesto. in the pesto in the pesto and then we do it And we do it and we do it we are going to the pesto and we do it I think we do it Yeah, We do it Io stavo a Bologna e ho finito di studiare a dicembre, economia e polizia economica, la specialistica. Dov'è la vostra cellula? A Barberia, via Barberia. Ah, ok. Ah, è sulla parte un po'. Sì, no, è da... Allora, posso fare? Venedetta parola... Mmm... Se vuoi, posso spiegare, posso spiegare, se vuoi. Ok, qual è il tuo nome? Antonio. Questo è Antonio, è l'italiano chef. Allora. Questo è piadina, ma vegetariano piadina, senza me. Io ho spiegato in Italia. Ok. 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 Ok, niente, questa è la piadina. La piadina, di solito, è romagnola, che è una regione dell'Italia, la Romagna. Però è un piatto che si mangia in tutta l'Italia. Ovviamente questa non è la cucina italiana. La cucina italiana è molto più varia. Però questo è un piatto veloce. Sono cinque minuti alla... C'è il pace. C'è un panco sotto casa mia. Ok. Ok. Con i... Vegetables. Or... Vegetables. And... 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 Ok. Thank you. Thank you for your explanation. Ah, you're welcome. Thank you. I will put this on YouTube, if it's ok. Oh, YouTube? Ok. It's ok, yeah. Ok. Ti pareva? No. Ancora a te non ho messo niente. Solo bruciurle. No, cioè... Così... Vegetariana però... Stavo aspettando. Oddio! Mamma mia... Scusa, mi metto a divertire la testa. Mi sono computata. Devo venire a cambiare... Antonio, vado a cambiare... Dai, non ti metto io. Dai, non mi tocco io. Ci sono io staccio. Se lo stai un pound. Mi stai fatto da ricambio, te lo ridò ancora. Ce ne ho 4, me ne mancano 1. Guardami le compagnie. Dai, andiamo a cambiare i soldi. La compagna? Prendendo prendo la piadina. Io ce ne ho 2. Dai, tu paga il tuo e poi... Quando pago il mio... Ascolta, prima mangia che si fredda. I soldi non ti preoccupare. No, dai. Tanto io sono qua. Thank you very much. Thank you. Guarda, facciamo velocissimo. Così mangiamo tutte e tre. Arriviamo subito. Vai, vai, non ti preoccupare. Vabbè, mi lascia la sola. Facciamo la tabella con la bistecca. Te ne lascia la sola. Voi ci porti. Vai su YouTube, hai sentito? Antonio? Su YouTube? Wow. Si. Però gli ho detto che questa non è la cucina italiana, nel senso. Questo è solo un piatto italiano. La cucina italiana è... È molto più vasta. E come va a Bologna? Beh, Bologna ci sta da 3 settimane, quindi non è che mi sono fatta studiata da poco. Ho studiato a Terra, ma mi sono laureata lì e ho fatto comunicazione e poi mi sono spostata tra studiata a Bologna. Quindi adesso inizia quest'ambiente. Primo anno. Grazie. 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 Grazie.